oggi desidero mostrare la possibile soluzione di una traccia preparata dai colleghi riuniti a bolsano dal 4 al 7 febbraio del 2019 nell'ambito del progetto ls osa e durante il convegno elaborazioni simulazione prove di matematica e fisica e sperimentazione delle griglie di valutazione questa traccia non è banale ma mostra che si può fare tanta buona matematica partendo da problemi di fisica apparentemente semplici considera questo problema come una occasione per ripassare sia elettrostatica che analisi matematica chi ancora non sa che cosa sia un integrale farà bene a rivedere il video più avanti dopo aver acquisito questo concetto e le tecniche di calcolo ecco quali sono i prerequisiti per seguire con profitto questo video se non conosci qualcuno di questi concetti credo che sia inutile continuare la visione di questo video occorre prima colmare l'eventuale della cuna e poi seguire e veniamo alla traccia data la famiglia di funzioni f di x a x al quadrato meno b logaritmo naturale valore assoluto 1 meno x fratto 7 definite nell'intervallo meno 20 20 determina i valori dei due parametri a e b reali che individuano la funzione passante per il punto p che ha queste coordinate e il cui grafico è tangente alla retta y 880 su 7 per x nel punto di ascissa x uguale a 0 costruisci poi il grafico della funzione la prima domanda è piuttosto standard oramai appare spesso nelle prove di esame abbiamo due parametri a e b e per determinarli occorre impostare due equazioni la prima equazione si ottiene imponendo il passaggio di questa funzione per il punto p per cui al posto di x si sostituisce 6 e la f di x poi deve valere 360 più 880 logaritmo naturale di 7 e ciò è stato realizzato qui la prima condizione ci porta a questa equazione per costruire la seconda equazione occorre trovare la derivata prima in x uguale a 0 e porla uguale a 880 diviso 7 che è il coefficiente angolare di questa retta allora la derivata prima è questa espressione per x uguale a 0 si riduce a b fratto 7 ed e b fratto 7 è proprio uguale al coefficiente angolare della retta da queste due equazioni si ricavano i valori di a e b quindi con questi valori occorre costruire il grafico della funzione come al solito adesso si ricorre al calcolatore grafico al posto di a e b si inseriscono i valori trovati e si determina immediatamente il grafico per ottenere questo grafico è stato necessario usare diversi fattori di scala sull'asse x e sull'asse y per esempio l'unità di lunghezza sull'asse verticale vale 1000 invece sull'asse orizzontale vale 5 e la funzione è definita tra meno 20 e 20 la retta blu è quella che ci viene data dal testo e questa funzione presenta si vede subito due punti di minimo uno qui corrispondenza più o meno di 11 12 e un altro qui quindi prima di meno 5 probabilmente meno 4 queste considerazioni bisogna farle subito e quindi è importante fondamentale avere un calcolatore grafico perché in questo modo sappiamo già che cosa dobbiamo dimostrare e quindi abbiamo un modo per autocorreggerci quando poi passeremo a fare i calcoli naturalmente poi c'è l'asintoto a x uguale 7 quindi dopo aver capito quali sono i tratti essenziali di questa figura possiamo anche proseguire con lo studio della funzione il dominio è l'intervallo meno 20 20 privato del punto 7 non è né pari né dispari per quanto riguarda l'intersezione con gli assi e in corrispondenza di x uguale a 0 f di x vale 0 e invece gli zeri della funzione sono 1 in x uguale a 0 e poi abbiamo un altro 0 nell'intervallo tra meno 10 e 5 in questo intervallo questo punto non può essere trovato per via analitica ma per via numerica voglio mostrarvi come sia possibile determinarlo con il calcolatore grafico io userò un'altra applicazione e non userò il calcolatore grafico che si può usare all'esame ok questa è la funzione non si capisce bene che cosa come sia fatta allora proviamo ad agire sulla scala quindi sto aumentando il fattore di scala sull'asse y però vedete che si perde in definizione sull'asse x allora diminuisco sull'asse x ecco questa è la funzione potrei anche disegnare la retta y uguale era 880 diviso 7 per x questa è la retta per quanto riguarda lo 0 che è questo qui allora occorre ingrandire in questo punto io sto usando un'applicazione ma con il calcolatore grafico che si può usare all'esame esistono strumenti simili quindi in questo modo potete avere un'idea di quanto possa valere lo zero e in questo caso qualsiasi cosa prendiate tra questo numero e quest'altro va sicuramente bene pertanto poi spiegherete che questo zero è stato determinato con l'aiuto del calcolatore grafico naturalmente se conoscete anche il metodo di b sezione se vi rimane tempo potete anche impostarlo per trovare numericamente questo zero se non avete il calcolatore grafico allora il metodo di b sezione o qualche altro metodo numerico dovrà essere impostato per trovare questo zero se non avete il calcolatore grafico e ne tantomeno conoscete questi metodi numerici dovete in ogni caso accennare al fatto che ci sia questo zero e dare una stima per quanto grossolana essa possa essere per quanto riguarda gli assintoti verticali ce n'è solo uno in x uguale 7 e la funzione per x che tende a 7 sia da destra che da sinistra tende a più infinito si tratta di cose che avevamo già intuito e queste considerazioni non fanno altro che confermarci la bontà della di questi calcoli si passa a trovare la derivata prima che è questa qui che si può porre in questa forma a questo punto si pone uguale a zero la derivata prima affinché la derivata prima sia zero deve annullarsi il numeratore sostituendo ad a e b i valori che abbiamo trovato poco fa occorre risolvere questa equazione di secondo grado e si trovano i punti in cui la derivata prima vale zero uno vale 11 e l'altro meno 4 vediamo se e ci siamo meno 4 e 11 allora vedete come con il grafico già pronto diventa tutto più semplice uno non ha dubbi sulla correttezza di questi risultati naturalmente do per scontato che uno abbia inserito nel calcolatore grafico l'espressione corretta della funzione questi due punti sono di massimo o di minimo lo sappiamo già che sono punti di minimo ma facciamo finta di non saperlo e andiamo a studiare il segno della derivata prima conviene metterla in questa forma il segno del numeratore è il seguente il tratto rosso determina punti in cui la funzione è positiva il denominatore invece è positivo per x maggiore di 7 in 7 anche la derivata prima presenta una discontinuità il rapporto è positivo tra meno 4 e 7 e per x più grande di 11 per cui i punti meno 4 e 11 sono effettivamente punti di minimo e questi sono i valori di queste funzioni in quei punti domanda numero 2 esprimendo x in centimetri e assumendo a 10 volte su centimetro quadrato e b 880 volte la funzione f di x 10 x al quadrato meno 880 logaritmo valore assoluto 1 meno x diviso 7 rappresenta a meno di una costante il potenziale lungo l'asse x espresso in volt di uno solo dei tre sistemi fisici di seguito proposti una nube di carica negativa uniforme a simmetria sferica di raggio 20 centimetri e contenente una carica puntiforme negativa posta a distanza x 7 centimetri dal centro della sfera tagliata da un piano caricato positivamente in modo uniforme a distanza x 7 centimetri dal centro della sfera perforata da un filo rettilineo infinitamente lungo uniformemente carico positivamente passante a distanza x 7 centimetri dal centro della sfera individua tra a b e c il modello più idoneo argomentando la scelta effettuata abbiamo tre sistemi fisici quindi una carica elettrica distribuita all'interno di una sfera e la densità di carica volumetrica è costante quindi ogni centimetro cubo all'interno di questa sfera contiene la stessa carica indipendentemente da dove si trova questo centimetro cubo nube che contiene poi una carica puntiforme oppure una nube sferica con un piano si tratta di un piano visto di taglio quindi un piano infinito perché taglia la sfera in x uguale a 7 e poi qui invece abbiamo sempre la nube tagliata da un filo infinito quali di questi tre sistemi è in grado di riprodurre come potenziale quello dato qui sopra 10 x al quadrato meno 880 logaritmo naturale ora qui si può rispondere in tanti modi e la risposta dipende da quanta fisica si conosce uno studente che ha superato le fasi regionali delle olimpiadi di fisica a vista riconosce che il modello fisico è questo qui in quanto sa qual è il potenziale di ciascuna di queste distribuzioni di cariche il potenziale della nube carica con densità uniforme al suo interno varia come x al quadrato il potenziale della carica varia come 1 su x il potenziale del piano infinito è direttamente proporzionale a x e invece il potenziale del filo infinito ha proprio una dipendenza tipo logaritmo valore assoluto di x per cui sapendo che la funzione potenziale è una funzione additiva cioè il potenziale di due o più distribuzioni di cariche in un punto è uguale alla somma dei potenziali prodotti da ciascuna distribuzione allora quello che bisogna fare è provare a riconoscere in questi termini i potenziali appunto di ciascuna di queste distribuzioni e sapendo quello che ho detto prima si capisce che qui dentro c'è il termine x al quadrato tipico della sfera è quello logaritmico tipico del filo infinito ma non è detto che tutti gli studenti conoscano i potenziali di tutte queste distribuzioni di cariche potrebbero conoscerne solo alcune dovrebbero sicuramente conoscere il potenziale della carica puntiforme che va come 1 su x e 1 su x qui non c'è per cui questo modello è da escludere e dovrebbero sapere anche il potenziale del piano infinito che varia appunto in maniera proporzionale ad x perché l'hanno visto nel condensatore e qui non c'è nessun termine con la prima potenza di x per cui anche quest'altro modello è da escludere e allora non rimane che questo modello ma la scelta per esclusione non è ben motivata e allora quello che bisognerebbe provare a fare è tentare di ricavare il potenziale della filo infinito un altro modo di provare a rispondere è se ci si ricorda che il campo elettrico è collegato da questa relazione al potenziale quindi è la derivata del potenziale cambiata di segno e quella che noi abbiamo trovato qui è la componente del campo elettrico nella direzione x perché abbiamo una dipendenza da x del potenziale vi ricordo che il campo elettrico è una grandezza vettoriale e quindi in principio noto il potenziale che è una grandezza scalare possiamo ricavare le tre componenti del campo elettrico attraverso tre derivate e allora eseguendo la derivata si ottiene questo risultato un'altra espressione della derivata è questa qui che abbiamo usato poco fa per per lo studio della funzione ma in questo caso questa espressione non ci aiuta dobbiamo lavorare su quest'altra il motivo qual è il motivo che anche il campo elettrico è una funzione additiva per cui il campo elettrico totale di più distribuzione di carica si trova eseguendo la somma dei campi elettrici di ciascuna di queste distribuzioni nel caso generale occorre sommare dei vettori ma in questo caso ci limiteremo a sommare le componenti x dei vari campi elettrici e allora bisogna vedere se qui in questi due termini riconosciamo i campi elettrici di queste distribuzioni di carica ora dobbiamo ragionare in termini di campi elettrici il campo elettrico della carica puntiforme a dipendenza 1 su x al quadrato e non c'è per cui questa è ancora da escludere è impossibile arrivare all'esame senza sapere come è fatto il campo elettrico del piano uniformemente carico che è una costante e qui non c'è nessuna costante quindi questo termine sparisce ancora una volta rimane questo termine bisognerebbe provare a determinare il campo elettrico di questa distribuzione di carica e assicurarsi che coincida con questo termine e questo campo elettrico lo si può determinare usando il teorema di gauss per dare peso a questa scelta quello che farò io adesso è prendere questo esercizio come occasione di approfondimento e proverò a trovare il potenziale di ciascuna di queste distribuzioni di cariche cominciamo con la carica puntiforme negativa il potenziale arcinoto è questo qui questo è il potenziale di una carica che si trova nell'origine del sistema di coordinato questo è il grafico associato al questo potenziale ma se la carica si trova in 7 in x uguale 7 allora il grafico è lo stesso ma traslato di 7 unità verso destra e quindi abbiamo un grafico di questo tipo quest'andamento 1 su x non l'abbiamo trovato nel potenziale quindi è da escludere passiamo a questo punto a trovare il potenziale della nube ma procediamo con ordine iniziamo con il ricordare un altro risultato noto il potenziale di un conduttore sferico la cui superficie è carica in questo caso sappiamo che la carica si distribuisce in maniera uniforme è noto che il potenziale in questo caso ha quest'andamento quindi all'esterno della sfera il potenziale va come 1 su r o come 1 su x nel caso del nostro problema all'interno invece il potenziale è costante e vale kq diviso r quindi in tutti i punti il potenziale è costante il campo elettrico all'interno della sfera lo ricordiamo vale 0 invece fuori va come 1 su r al quadrato il passo successivo è immaginare che invece di una sfera abbiamo un guscio sferico allora le formule che ci danno il potenziale sono le stesse che abbiamo visto poco fa solo che al posto di q occorre inserire la carica che si trova all'interno di questo guscio questa non è altro che il volume di questo guscio sferico che vale la superficie della sfera che è 4 pi greco r al quadrato per questo spessore infinitesimo di r per rho è la densità di carica quanta carica abbiamo in un centimetro cubo per cui il volume del guscio sferico per rho ci dà la carica e questo è il potenziale potenziale prodotto al di fuori di questo guscio e quest'altra è l'espressione del potenziale all'interno del guscio sferico tra l'altro ho mancato di farlo notare poco fa in questo caso questa espressione significa che il potenziale qui è come se fosse determinato da una carica che si trova in realtà nel centro della sfera il passo successivo è determinare il potenziale della nube la nostra nube ha raggio r e ci interessa il potenziale al suo interno scegliamo un punto che si trova a distanza r dal centro di questa nube il potenziale in questo punto sarà lo stesso sui punti di una sfera di raggio r e ora noi abbiamo dei gusci sferici che si trovano all'esterno di questa sfera è anche al suo interno per cui il potenziale in questo punto non è altro che il potenziale dei gusci che si trovano all'esterno di questa sfera sommato al potenziale dei gusci che stanno all'interno per cui il potenziale è dato da questa espressione dove queste quantità sono quelle che ho mostrato poco fa potrebbe non essere chiaro quello che sto facendo consiglio di scrivere queste cose su carta e di guardarle e di controllarle per bene nel primo integrale andiamo a vederlo di nuovo all'interno c'è r che era costante quindi adesso a distanza r questa quantità risulta essere una costante per questo integrale quindi viene portata fuori dal segno di integrale e seguendo i calcoli ci accorgiamo che devo risolvere un banale integrale di r primo al quadrato in dr quindi mi da un r al cubo r al cubo che poi si semplifica con la r che sta qui qui invece si semplifica a una dipendenza tipo r primo che mi fa apparire una primitiva con r al quadrato togliendo le parentesi posso sommare i termini con r al quadrato il risultato è questo qui questa quantità dipende solo da costanti quindi svolge il ruolo di una costante e poi ho l'altra dipendenza del r al quadrato quindi il risultato finale è questo qui ci è stato detto nella traccia che la densità di carica della nube è negativa per cui rho avrà un valore negativo e con questo segno meno davanti farà sì che questo potenziale diventi positivo però qui c'è una costante che il testo ha trascurato ha significato fisico solo la differenza di potenziale non di per sé il potenziale in un punto per cui adesso probabilmente si capisce perché una nube negativa dà vita a un potenziale positivo cosa che poteva lasciare perplessi perché se questo è il termine dovuto al potenziale della nube poteva non essere chiaro per quale motivo il contributo al potenziale di una nube negativa doveva essere positivo adesso è chiaro e cioè perché abbiamo trascurato la costante in quell'espressione questa costante che è negativa qui si vede che è negativa perché r al quadrato è positivo 2 pi greco k è positivo rho è negativo quindi questa costante è negativa ed è stata eliminata pertanto il potenziale della nube carica negativamente è questo qui una dipendenza r al quadrato x al quadrato a meno di una costante non ci viene chiesto ma quanto vale il potenziale all'esterno di questa nube all'esterno di questa nube il potenziale ritorna identico a quello di una carica puntiforme ognuno di questi gusci all'esterno dà vita a un potenziale identico a quello che si avrebbe se questa carica che adesso sta sul guscio si trovasse al centro della sfera e quindi la somma di tutta questa carica è proprio la carica totale per cui all'esterno il potenziale a andamento v uguale k diviso r dove r è maggiore del raggio della nube e q è la carica totale e ora passiamo a determinare il potenziale del piano infinito partiamo da un risultato che dovrebbe essere facile da accettare il potenziale dell'anello carico in maniera uniforme è positivo la carica è distribuita lungo la circonferenza e questa circonferenza è perpendicolare all'asse x il centro della circonferenza si trova anch'esso sull'asse x e siamo interessati al potenziale in un punto qualsiasi dell'asse ed è questo il potenziale k questo qui è il dq che si trova su quell'elemento di filo diviso la distanza che c'è da questo punto al punto p nel quale ci interessa conoscere il potenziale e quindi bisogna sommare i contributi di tutti i vari elementi ora in questa integrale tutto è costante rimane da sommare sui vari dl la somma dei dl è proprio 2 pi greco r lunghezza della circonferenza e questo è il potenziale dell'anello carico in un punto qualsiasi facciamo un passo in più proviamo a determinare il potenziale di una corona circolare quindi abbiamo questa corona circolare di spessore dr infinitesimo si parte dal risultato precedente questa qui è ancora una volta la carica dq che si trova sulla corona circolare e vale 2 pi greco r per dr che rappresenta l'area di questa corona circolare per sigma sigma risulta essere la densità di carica superficiale quindi è ancora la stessa espressione di prima solo che mentre qui la carica era distribuita lungo un filo qui invece è distribuita su questa corona questo risultato ci serve per trovare il potenziale di un piano carico positivo oh scusate ho fatto un errore la carica è positiva il testo parla di anello carico positivamente per cui devo modificare questo disegno ma le considerazioni che ho fatto poco fa continuano ad essere vere allora ritorniamo al piano se sappiamo come fatto il potenziale di questa corona circolare quello che devo fare è sommare su tutte le corone circolari in cui posso immaginare di scomporre l'intero piano piano di estensione infinita quindi di corone circolari di questo tipo ne avrà infinite quello che devo fare è sommare i potenziali di ciascuna di queste corone circolari quindi devo risolvere un integrale di questo tipo questa integrazione non è complicata al posto di x al quadrato più r al quadrato si pone questa variabile u al quadrato si cambiano i differenziali si cambiano di conseguenza anche gli estremi di integrazione che a questo punto diventano x e infinito quindi si giunge a quest'integrale ora sorge un problema e cioè se vado a eseguire quest'integrale tra x e infinito troverò infinito meno x ma che significa avere infinito in questa espressione infinito meno x x qualsiasi sia questo valore x mi darà sempre un numero infinito e che significato avrà questo potenziale quindi avrei un valore indeterminato ecco questo è uno di quei casi in cui la matematica è una cosa e la fisica è un'altra il problema qui nasce dal fatto di aver immaginato che sia possibile avere un piano infinito uniformemente carico cosa che è ovviamente impossibile un piano infinito uniformemente carico avrebbe una carica infinita cosa assurda aver immaginato una cosa assurda ci porta a un risultato assurdo allora proviamo a dare un senso a quello che stiamo facendo invece di infinito in quest'integrale quello che dobbiamo fare è introdurre un valore grande ma comunque finito u max in quest'integrale tra 0 infinito io dovrei integrare tra 0 è un valore massimo del raggio di questa corona quanto deve essere grande questo raggio affinché io poi ricavi un valore che abbia senso allora il risultato che mi accingo a ottenere avrà senso quando il raggio di questo piano sarà molto più grande molto ma molto più grande della distanza x in cui vado a determinare il potenziale dunque sostituiamo infinito un valore grande ma finito risolviamo questo integrale e scopriamo che questa quantità risulta essere una costante e qui abbiamo una dipendenza del potenziale da x questa espressione potrebbe essere resa più familiare se al posto di k si sostituisce il suo valore che è 1 su 4 pi greco epsilon 0 dopo le opportune semplificazioni si arriva a questo risultato e questo risultato si va di bene dovrebbe essere familiare a tutti in quanto questo qui è proprio il valore del campo elettrico del piano e adesso passiamo al potenziale della linea carica positivamente qui abbiamo un filo di lunghezza infinita prendiamo un punto p qualsiasi è un qualsiasi elemento di filo di y e il filo l'abbiamo sistemato lungo l'asse y e x è un punto che si trova sull'asse x perpendicolare a y e questo di y si trova a distanza y dall'origine delle coordinate questa quantità qui è il solito dq diviso la distanza che c'è da questo elemento al punto p e quest'integrale va eseguito tra meno infinito e più infinito ma se facessimo così troveremmo gli stessi problemi che abbiamo incontrato con il piano infinito allora quello che dobbiamo fare in realtà integrare tra meno l e l quindi quando ci interessa il potenziale in un punto x stiamo immaginando che questo filo abbia una lunghezza molto ma molto più grande di x si compiono queste sostituzioni provate a ripeterle per esercizio si arriva a questo semplice integrale che sappiamo è logaritmo valore assoluto di questa quantità diviso quest'altra ora se l come abbiamo detto è molto maggiore di x v di x diventa questa quantità e quindi appare la dipendenza logaritmo di x che abbiamo visto nella traccia originale più ancora una volta una costante avevamo visto però che il filo non stava in x uguale a zero questo è il potenziale di un filo situato in x uguale a zero si trovava invece in x uguale a 7 e allora vediamo un po questo è il grafico di logaritmo di x quest'altro invece è il grafico di logaritmo valore assoluto di x che è il nostro potenziale questo potenziale è dovuto a un filo che si trova in x uguale a 7 quindi bisogna traslare questa funzione di 7 unità verso destra e questo è il nostro nuovo grafico dopodiché abbiamo dobbiamo cambiare segno e quindi ribaltare questa funzione rispetto all'asse x perché il nostro potenziale in realtà è negativo quindi per questa carica positiva il nostro potenziale risulta essere negativo e infatti qui c'è il segno negativo bene alla luce di tutte queste considerazioni adesso che abbiamo capito come sono fatti i potenziali della nube della carica puntiforme del piano e del filo infinito possiamo finalmente e senza ombra di dubbi dire che il modello coerente con la funzione che c'è stata data all'inizio è questo qui c'è la nube attraversata da un filo infinito carico determina la carica totale della nube è in base alla scelta effettuata o il valore della carica puntiforme o la densità di carica superficiale del piano o la densità di carica lineare del filo la risposta può variare a seconda di come avete risposto alle domande precedenti per esempio nel caso della sfera abbiamo visto che il potenziale era questo qui e quindi confronto questo potenziale con la funzione che mi era stata data all'inizio che era 10x al quadrato avevamo individuato in questo termine proprio il potenziale della nube confrontando questi due risultati scopro che rho è meno 15 su pi greco k questo mi permette di trovare immediatamente la carica della nube ed è il volume della nube che è 4 terzi pi greco r al cubo per rho e quindi sostituendo al posto di rho il valore che ho trovato scopro di meno 20 r al cubo su k sostituisco i numeri e trovo il risultato in coulomb un altro modo per giungere a trovare q è il seguente faccio uso del teorema di gauss teorema di gauss dice che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è uguale alla carica interna alla superficie diviso y0 ed è quello che ho scritto qui y0 l'ho portato a secondo membro per cui sono nelle condizioni di trovare il flusso del campo elettrico e il flusso del campo elettrico si trova moltiplicando la superficie della sfera 4 pi greco r al quadrato per il campo elettrico campo elettrico che è la derivata prima cambiata di segno di questo termine allora trovo questo risultato che è lo stesso che ho trovato prima questi sono due dei possibili modi per rispondere alla domanda per quanto riguarda il calcolo di lambda del filo ancora una volta abbiamo diversi modi per rispondere confronto il potenziale che ho trovato poco fa per il filo con il termine che mi viene dato nella traccia e scopro che lambda è questa quantità oppure usare di nuovo il teorema di gauss sfruttando la simmetria cilindrica del campo elettrico del filo infinito i calcoli non li riporto perché si tratta di un problema standard presente in ogni libro di testo quarta ed ultima domanda determina la funzione campo elettrico sui punti dell'asse x e rappresentala graficamente utilizza la funzione campo elettrico per calcolare il lavoro necessario per spostare una particella di carica q 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb lungo l'asse x x uguale 10 a x uguale 100 centimetri esprimendo il risultato in joule allora qui ci sono due domande la prima è rappresentare il campo elettrico questa è la prima volta che ci chiede esplicitamente di dimostrare qual è la relazione tra il campo elettrico e il potenziale di questo qui ecco in realtà noi questa informazione in alcune risposte precedenti l'abbiamo già usata e quindi la derivata prima l'avevamo già trovata devo cambiare segno e questa è l'espressione in fondo questa funzione l'avevamo già studiata all'inizio e questo qui è il grafico tra meno 20 e 20 per quanto riguarda l'altra domanda dobbiamo trovare il lavoro per spostare questa carica da x uguale 10 a x uguale 100 ho qualche perplessità sulla domanda perché finora abbiamo parlato di una funzione che è definita tra meno 20 e 20 e quindi qui adesso salta da questo intervallo e ci chiede così improvvisamente di trovare il lavoro per portare questa carica da un punto che è 10 qui fuori dall'intervallo in cui non sappiamo assolutamente nulla e quindi non so se vuole che adesso ci apprestiamo a studiare di nuovo la funzione al di fuori di questo intervallo cosa possibile oppure ci sia un errore di stampa allora proviamo a rispondere a tutte e due le domande supponiamo per esempio che abbia sbagliato e che in realtà questo 100 e 20 centimetri che è un valore all'interno del dominio la risposta è il lavoro da a a b è dato da questa da quest'integrale ora il campo elettrico sappiamo che è meno la derivata rispetto a x del campo elettrico e questa espressione qui non è altro che q integrale in dv con i limiti di integrazione invertiti a causa di questo segno meno e quindi abbiamo xb qui sotto e xa pertanto il risultato è questo qui e questo risultato è piuttosto immediato perché conosciamo proprio la funzione potenziale della f del testo quindi dobbiamo inserire in questa formula 10 e 20 f è questa qui quindi calcoli li tralascio perché sono piuttosto noiosi quanto vale lavoro se xb vale 100 centimetri e qui la faccenda un po si complica perché per x maggiore di 20 la nube si comporta come una carica puntiforme e abbiamo già visto come si comporta quella nube per r più grande del suo raggio quindi questa è la dipendenza del potenziale di quella nube semplifico e trovo questo risultato quindi il potenziale qui si scopre che è negativo per x maggiore di 20 la nostra funzione in definitiva è la seguente adesso è una funzione definita a tratti per x in valore assoluto minore di 20 il potenziale è il seguente e dobbiamo tener conto di quella costante che all'inizio avevamo trascurato fuori invece per x all'esterno di questo intervallo l'espressione del potenziale è il seguente quindi è cambiato il potenziale della nube qui aveva un andamento x al quadrato e qui invece a quest'altro andamento ora si capisce immediatamente che ognuna di quelle cariche negative della nube danno vita a un potenziale negativo e la somma di tutti i contributi deve dare un numero negativo per cui non ha alcun senso avere qui questo termine positivo e all'esterno un termine negativo ed è il motivo per cui queste due funzioni dobbiamo raccordarle e scegliere adesso la costante c1 in maniera tale che questo potenziale in x uguale a 20 sia continuo perché fin tanto che ci interessavano le differenze di potenziale all'interno della nube questa costante non svolgeva alcun ruolo per x uguale a 20 sostituiamo e il potenziale ci dà questo risultato ora adesso solo una di queste due costanti può essere arbitraria non tutte e due allora decidiamo di determinare c1 c2 la poniamo uguale a 0 e troviamo per c1 meno 12 mila volt dopo aver trovato questa costante allora vx diventa quest'altro allora vedete in rosso il potenziale di quella distribuzione di carica nube più filo per x tra meno 20 e 20 invece per x più grande di 20 e per x menore di meno 20 allora entra in gioco quest'altra funzione qui notate la continuità del potenziale a questo punto possiamo trovare il lavoro richiesto e devo effettuare questa differenza e devo prendere per x uguale 10 il valore fornito da questa espressione e per x uguale 100 devo prelevarlo invece da quest'altra funzione e con questo abbiamo terminato